E' stato un anno difficile, inimmaginabile, a tratti impossibile da sostenere. Se la vita è un volo, questo cielo incerto e pieno di intemperie ci ha spezzato le ali. Un anno è passato e dei giorni trascorsi resta tanta sofferenza nel cuore. Abbiamo assistito ad un film che non è ancora aggiunto ai titoli di coda, di cui non ci è piaciuta la trama nello sterminato numero di attori che hanno smesso di essere i protagonisti della loro esistenza a causa di un virus. Dietro a setiche mascherine abbiamo nascosto labbra, sorrisi ed emozioni. Abbiamo chiuso in casa per lunghi periodi pure la spensieratezza dei bambini, rendendo opachi i colori della fantasia. Siamo all'inizio della fine, si comincia a dire e a sperare. E tutti ci troviamo dentro un unico sogno, un solo desiderio, che tutto torni ad essere normale. Noi che facciamo informazione, che lavoriamo ogni giorno per raccontare le storie e la vita che accade, ci siamo impegnati come non mai, moltiplicando i nostri sforzi e mettendo in campo ogni risorsa per rispondere con puntualità e professionalità a chi ci segue, a quell'immenso e meraviglioso seguito che non è fatto solo di numeri, like e condivisioni, ma di uomini e donne che hanno imparato a conoscerci, che ci sostengono con la costanza di una presenza che valutiamo vivo e attivo ogni giorno che passa, sempre di più. Sardegna Live ha seguito in diretta i fatti e gli eventi, ha raccolto le voci, dato luce ai protagonisti, ha sfidato il buio che si faceva sempre più fitto, investendo su mezzi e risorse umane, aprendo la sua nuova sede a Cagliari, potenziando su tutti i fronti la qualità dei suoi obiettivi. Continueremo ad accendere le nostre telecamere in ogni angolo dell'isola, in cui la vita si manifesta nei fatti della cronaca, negli sviluppi dell'esistenza, nel racconto delle tradizioni e di qualsiasi evento che desideri essere, oltre che apparire. Sardegna Live è uno spazio libero, che non ha né colori né padrini né padroni, è la casa di tutti, la dimora dei sardi. Sardegna Live è una squadra formata da coloro che amano la nostra terra, che credono nella serietà e nella coerenza, che sanno sorridere e formata da coloro che non vengono mai meno al rispetto per se stessi e per gli altri. Per il nuovo anno auguriamo a chiunque salute, lavoro e soddisfazioni in ogni ambito. Non vi chiediamo di seguirci, ma di continuare a camminare al nostro fianco, lungo la corsa di un viaggio comune verso nuovi traguardi da raggiungere insieme. Buon anno, Sardegna. Sardegna Live è una squadra formata da raggiungere insieme. Buon anno auguriamo a chiunque